Ciao a tutti ragazzi, oggi vi faccio una sorta di saluto, mi sono messa anche fuori perché ormai la primavera è arrivata, quindi si sta bene anche in balcone, e un saluto perché domenica parto per Tokyo, dove appunto torno per altri circa tre mesetti, studierò di nuovo nella stessa scuola, insomma così porto avanti il mio studio della lingua giapponese, e come ho già scritto sulla fanpage, questa volta voglio farvi partecipare ancora di più della mia esperienza in Giappone, quindi voglio cercare di fare più riprese, anche perché ho preso la videocamera nuova, quindi voglio utilizzarla al meglio, non so ancora come verranno creati i video, se parlerò in inglese per essere più comoda o in italiano, metterò sempre i sottotitoli, dico questo perché comunque mettere i sottotitoli in inglese richiede molto tempo, e là non ne avrò tanto quanto ne ho qua per costruire, ecco, per creare i video. Devo ancora riflettere sulla cosa, in ogni caso spero di rendere questa, diciamo, idea, questa voglia di farvi partecipare appunto della mia esperienza divertente, e che possa appunto entusiasmare anche voi che mi vedete dall'Italia. Niente, ovviamente i video ricette non credo che vi riuscirò a farne, però appunto cercherò veramente di farvi vedere diverse sfaccettature del Giappone, non solo culinarie, anche proprio di vita quotidiana. Non voglio dilungarmi troppo, appena potrò la vi farò un video, magari dove vi faccio vedere la mia camera, perché no, la casa in cui vivrò, e ci vediamo presto, e in Giappone, in giapponese si dice tra amici, matane, che vuol dire appunto a presto, in un certo senso, e alla prossima volta. Ciao!